segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te buonasera a tutti e benvenuti a mosca siamo nel cuore della capitale russa quella che vedete una fotografia che tutto il mondo conosce in fondo c'è la piazza rossa quelle che vedete adesso invece sono le mura che circondano il cremlino il palazzo dove vive vladimir putin due mesi fa noi eravamo andati in ucraina perché anche lì volevamo capire che cosa stesse succedendo in questa tragica guerra oggi abbiamo deciso di venire qua a mosca per incontrare persone per ascoltare le loro voci le voci di chi noi in occidente vediamo come il nemico perché non lo dimentichiamo la russia ha invaso una nazione sovrana come l'ucraina tra pochi minuti ci confronteremo con una delle donne più importanti del sistema politico russo si chiama maria zakharova lei ha rivoluzionato il modo di comunicare del ministero degli esteri ma tra un minuto invece inizieremo a raccontare quello che sta succedendo in italia con il professor massimo cacciari un attimo di pubblicità e poi torneremo qui da mosca in diretta